Prenderà il via la prossima settimana il tanto atteso ripascimento della spiaggia sia nella zona sud di Villa Rosa che nel litorale centrale di Martinsicuro. Lavori che ancora non hanno avuto inizio e così come avvenne la scorsa stagione, avverranno a stagione balneare iniziata, con le ruspe tra gli ombrelloni che tante polemiche hanno sollevato lo scorso anno. Ci siamo aggiornati dopo che ci eravamo visti già nelle settimane scorse in cui pronunciavamo questi interventi sia per Villa Rosa Sud che per Martinsicuro. Gli abbiamo aggiornati sulle tempistiche perché abbiamo fatto una procedura di gara per Villa Rosa Sud con la ditta che si è resta disponibile per seguire i lavori a partire dal 1 luglio, quindi per la settimana successiva. Stessa cosa per Martinsicuro Centro, chiaramente consapevoli delle tempistiche abbiamo voluto concordare con loro e condividere l'intervento, quindi la necessità dell'intervento che noi pensiamo sia importante anche se fatto a stagione iniziata. Purtroppo, anche per Martinsicuro, ancora non abbiamo avuto nemmeno l'ufficialità di finanziamento, ma ci siamo mossi comunque sulle rassicurazioni da parte della Regione Abruzzo che ringraziamo per comunque l'impegno. Sappiamo che le tempistiche non sono adeguate per una località da balneare, ma pensiamo pure che qualche giorno magari di disagio, di cui già ci scusiamo sia con gli operatori che con soprattutto gli utenti della spiaggia, possa però garantire nelle settimane successive un litorale più adeguato rispetto alle attese e quindi abbiamo con loro condiviso tempi e modalità di intervento in modo da avvisare anche i turisti che la prossima settimana ci saranno dei lavori che noi pensiamo si possono concludere nel giro di una settimana.